domande ragazzi niente quindi nel senso allora mod non ce ne saranno no 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 questa qua è lo scenario vanilla sì 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 ok perfetto quindi sarà così esponiamo con quattro navi diverse ci riuniamo tutti a gold e iniziamo a modificare una singola nave per fare la cosa poi una volta modificata la nave ci direggiamo subito lì otteniamo dei suoi cerchiamo di farci una risorse otteniamo otteniamo risorse perché ci conviene considera che c'è anche tutto il la tecnologia da ricercare perché c'è il tech 3 abilità sì 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 e infatti è una vera sfida come lo dice anche lo scenario quindi ragazzi ragazzi tenete presente una cosa alla nona ondata arrivavano una decina di droni e non droni piccoli stiamo parlando di droni con due gatling lancia razzi e parecchia roba cioè quindi non sarà facile neanche con le risorse sappiate e arrivavano in distanza di quanto 34 minuti ogni 34 minuti arrivata arrivano e tu non è materiale noi non avevamo materialmente nelle risorse né il tempo per riparare le cose quindi è stato proprio erosiva la cosa nel tempo cioè non è facile cioè di avviso più che altro giusto per intenderci sì quanto vogliamo che sia grande la nostra nave prima di dirigerci la non è una questione di grandezza è una questione di preparazione possiamo dire comunque tecnicamente io posso sparare anche su titano europa ma è giusto se noi però quelle pod quelle navi no ragazzi non ve lo fanno no a parte che ogni pod respona a quattro chilometri una all'altra quindi siamo vicini e comunque non dovrebbero essere disponibili ok per favore ognuno di noi rimanga all'interno della propria pod per evitare depressurizzazione e perdite di ossigeno dato che ogni risorsa è direttamente necessaria ho già controllato però tipo non possiamo depressurizzare perché c'è la tanica piena a proposito fammi fare la tanica volendo ragazzi potremmo unire tutte le pod in una sola sarebbe una buona idea però a quale scopo cioè no no più che altro sarebbe una bella idea però più che altro a questo punto avendo quattro pod io ti proporrei di farne una proprio diventa una trivella space pod si una diventa una trivella e le al 1 una raffineria e via così il fantastico momento dell'accoppiamento dei due pod o cazzo si va ragazzi iniziamo certo punto aspettiamo gastel però iniziamo così evitiamo di perdere tempo io ho già deciso che la mia nave verrà scrappata a proprio così si si la mia è una di quelle che verrà scrappata poi ne prendiamo una piuttosto la modifichiamo ok la scegliamo quale quale sarà ok carrello d'atterraggio boys è fatto ok allora poi tutte le risorse ragazzi io le sto mettendo la fanicking quindi a sto punto converrebbe metterle tutte lì ok ok ce le abbiamo centralizzate almeno ok una nave è completamente scrappata che credo fosse la mia ah mannaggia ragazzi il container di fanicking è totalmente pieno ce ne sono tre sotto ok un'altra cosa gli scarti di metallo c'è un posto dove possiamo già raffinarli non ancora però ora lo monto ho finito di fare la parte della trivella poi lo monto subito ragazzi piano quando andate piano quando andate ragazzi le proprietà mi raccomando le proprietà per tutti devono essere ora le monto ora le cambio subito scusa guarda il cadavere cold dove cazzo sei cosa oh mio dio cosa gli è successo al braccio ah quello fa male si ma quello lì era più grosso pensavo non avevano l'olio avevano l'olio gps asteroidi vicino e grande va bene ma avete già fatto uno scan per i materiali l'hai messo ma ci serve pietra quindi ho dubito che non ci serve fanicking dove le dov'è l'emesso il gps fai su k gps lo dovresti vedere come nascosto lo metti come come visibile poi io ripetono anche io asteroide vicino ok zella ascoltami ah è questo da ma ok boys la piattaforma è fatta va soltanto va soltanto saldata gasser è morto eh ritorno subito poi scusami e saldarla non sarà esattamente semplice però forse forse se scrappiamo la nave di fanicking possiamo farlo ehi ce l'ho ce l'ho messa zell l'ho messa non è il massimo ma va bene eh ma che cazzo non mi puoi nascondere i progetti allora no hai ragione hai ragione quando hai ragione hai ragione però lì mi serviva per fare un'altra cosa vabbè poi la rimuoveremo vabbè vabbè oh va bene dai non so perché mi piange il cuore vederla così non sostenuta duro d'acciaio piccolo, duro d'acciaio grande e costruzione ma volete che lo metta un survival kit per lo smaltimento della pietra? eh ce n'è già uno qua sulla piattaforma zell ah eh magari no vabbè faccio io dai quello ci penso io però incomincio a preparare una il resto c'è già il resto dei sistemi di produzione c'è già due assemblatori, una raffineria e due fornace d'arco tutto questo alimentato da due motorie a idrogeno e quattro pannelli solari sei troppo avanti sei troppo avanti no in realtà sono all'inizio perché non c'è un cazzo di saldato ah ok poi però sei avanti nelle idee diciamo faniki sai cosa faccio io adesso ti stupro la nave ci attacco due saldatrici e quello che saldo saldo ma povero ma perché gli vuoi tutte le navi tutte le navi vanno riciclate alla fine quindi ce n'è solo una che non va riciclata che è quella la tua perché mi serve materialmente ragazzi perché io non vedo l'antenna è accesa domanda stupida proprio no non la vedo nel pannello di controllo oh niente mi preoccupare l'ho saldato non ci credo l'ha saldato abbiamo energia potenziali tranquillo si fa niente fa niente niente l'ho saldato l'ho saldato l'ho saldato ragazzi ci siamo incastrati tipo ragazzi ma che state facendo voi si sta compenetrando con la stazione totalmente non sto cercando di far accoppiare la nave con la stazione per ottenere un ibrido chiaramente chiaramente e ma se non c'è il survival kit per dire lo stacchiamo dalla nave di fanikin e lo mettiamo qua perchè? perchè tanto la tua nave adesso non ci serve più ok un pannello di son un pannello solare è up vuol dire che il generatore di ossigeno è up e quindi di conseguenza eeeh figata ragazzi è partito il motore mica ma è bellissimo ma è bellissimo dimmi guarda il tuo connettore dove l'hai messo oh dovevi scavare dovevi scavare scusate c'è le trivelle per bellezza eh allora ma porco cane mannaggia ah no ci siamo quasi ci siamo quasi ci siamo quasi la raffineria è quasi up mancano giusto le ultime lastre si le sto prendendo io tranquillo si ma le griglie metalliche come le facciamo? eh le prendiamo dalla nave di fanikin l'ho detto che tanto è morta la nave di fanikin ma che si fotta è morta è morta arrivo senti ma se prendessimo anche il tuo di survival kit sarebbe così brutta come cosa? perché almeno ne mettiamo due in fila eh sì e io scusami non è il meglio perdonami che ce l'abbia così almeno incomincio a lavorarmelo ma ne abbiamo due in fila qua alla base piuttosto che avrei soltanto uno che lavora sulla tua prendilo prendilo a parte il fatto che prima per prenderlo dobbiamo smontarlo per smontarlo dobbiamo suotarlo oh cristo non puoi semplicemente rediriggere i materiali tipo no perché è proprio a ponte va bene te lo sto portando io ok boys minchia ma quanto ne ciuccia ma quanto ne ciuccia ma please ma ragazzi abbiamo e guardate guardate il generatore d'ossigeno cristo di ice ho trovato del ghiaccio ragazzi si cazzo quello ne serve un botto puttana eva portalo subito ora lo so lo so lo so verde e rosso verde e rosso verde e rosso ti ricordi quando hai detto che lì non avevo problemi a montare la il no ti prego non dirmi che hai avuto problema il connettore ti ricordi quando hai detto queste stessuali parole forse ecco sappi che non è così ma sai che non ci stavo pensando se mettessimo su un assemblatore potremmo effettivamente iniziare la produzione sulla base è partito è partito è partito oh boy oh boy hai visto? hai visto? perchè stavo facendo sta cosa? mancano computer ma non mi fai un cazzo perchè io sto per smerigliare il sedile di volo che straviene i computer no la sta già producendo niente mancano altri quattro i computer smeriglio le porte ok e anche l'altro assemblatore è up and running ok si però non è collegato ancora no no è tutto collegato adesso è tutto collegato vai ok e adesso ho questo trasportatore ordinatore gli diciamo lista bianca componenti strumenti munizioni e gli diciamo aspira tutto vediamo un po' quanta roba arriva oh sta arrivando tutto zel tutti i materiali stanno arrivando nel container piccolo track adesso richiameremo container componenti oh bravissimo bravissimo ah così ci leviamo dalle scatole bravo 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 ehm i due generatori sbaglio stanno lavorando stanno lavorando a pieno regime e un'altra cosa devo vedere ah zella adesso possiamo iniziare la produzione con gli assemblatori normali eh sì infatti lo sto già l'ho già iniziata io perchè lo stai usando l'assemblatore 1 io sto usando sto mandando le cose in chiamata direttamente da qua perchè ero più vicino più comodo però dimmi tu ah niente eh ricordati che no no dimmi tu come cioè non lo so cioè perché io ero qua mentre stavo vediamo un po' però sostanzialmente ora è tutto collegato quindi si allora survival kit no qua siamo a posto boh ehm se sei libero possiamo andare grazie